E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siete oggi ancora sul canale di Brinjiluka Tech e come potete vedere alle mie spalle c'è il mio nuovo desk setup di cui vi parlerò in un prossimo video ma oggi siamo qui a parlare finalmente della recensione delle Apple Airpods scopriamoli insieme dopo la sigla Dopo essere stato all'Apple Store per risolvere quel problema di cui vi ho parlato nello scorso video appunto vi lascerò il link qui da qualche parte siamo oggi qui per parlare della vera e propria recensione su queste Apple Airpods e le mie opinioni appunto su di esse Partendo proprio dal packaging, all'interno di questo troviamo oltre alle Apple Airpods il classico manuale di istruzioni ma state attenti perché mancano le mele e un comodissimo cavo lightning per ricaricare le nostre cuffie e tutti i nostri dispositivi iOS Ragazzi, qui su YouTube ci sono centinaia e centinaia di recensioni che parlano di questo prodotto e dell'ecosistema che è riuscito a creare l'Airpods e io sono qui ad aggregarmi all'oro per parlarvi di questa magia che appunto è riuscito a creare per magia tutti noi YouTuber intendiamo la sua velocità di collegamento con tutti i dispositivi Apple all'interno del nostro ecosistema ma non solo, anche per la loro velocità di funzionamento e la loro intuitività sicuramente quasi tutti voi conoscono la modalità di collegamento con uno dei dispositivi all'interno del vostro ecosistema ma per spiegarlo ci metto un attimo quindi basta aprire il loro cofanetto, estrarre una delle due Airpods, inserirla nell'orecchio e il gioco è fatto, il collegamento è stato effettuato in automatico e quindi non bisogna fare nient'altro effettuando dei test per vedere la vera e propria differenza sonora con le classiche cuffie che escono all'interno dell'iPhone beh, questa è molto molto elevata dato che le Airpods hanno dei bassi molto più corposi e degli alti molto più lineari un'altra delle loro caratteristiche magiche per così dire è il loro sensore di prossimità che quando abbiamo le cuffiette inserite nei nostri padiglioni auricolari se qualcuno ci si avvicina per parlarci e noi stiamo ascoltando magari del metal a dell'altissimo volume basta estrarre una delle due cuffiette per stoppare la musica e quindi ascoltare e parlare tranquillamente con la persona che si ha di fronte personalmente ho utilizzato queste cuffie in tutte le mie fasi della giornata addirittura quelle sportive dove i più pignoli magari evitano di utilizzarle per paura di perderle personalmente, dato che ho una forma del padiglione auricolare un po' particolare non proprio adatta per le Airpods ho acquistato un prodotto che magari vi lascerò una clip qui da qualche parte che mi aiuta a fissare per bene le cuffie sulle mie orecchie questo prodotto non è altro che un archetto che va a girare intorno alle orecchie per poi fissarci le Airpods all'interno ed evitare di farle cadere purtroppo per voi, dato che questo vi inciterà ad acquistarle non sono riuscito a trovare un vero e proprio difetto che mi ha impedito il loro utilizzo in una particolare circostanza ragazzi, il video finisce qui se questo vi è piaciuto vi raccomando lasciate un bel mi piace e fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete voglia di vedere un video dedicato a questo accessorio di cui prima vi ho parlato per utilizzare le cuffie in una fase sportiva vi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale noi ci rivediamo sempre qui domenica prossima sul mio canale YouTube grazie a tutti grazie a tutti